Mario Balotelli critica su Instagram Tony Awobi, il primo senatore nero della storia d'Italia eletto con la Lega. Balotelli ha criticato Awobi per la militanza in un partito che in più di un'occasione ha alimentato forti i sospetti di xenofobia. Balo su Instagram ha pubblicato una foto di Awobi che festeggia su un palco insieme a Salvini, aggiungendo questo commento. Forse sono ciaco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero, ma vergogna. Tony Awobi, 62 anni, di origini nigeriane, vive da 40 anni in Italia ed è tesserato per la Lega Nord dal 1993. Da sempre si è posto su posizioni decisamente intransigenti nei confronti dell'immigrazione e, soprattutto, contrarie all'Iussoli. Lo scorso anno, quando una bimba di 4 anni morì di malaria, fecero scalpore le sue dichiarazioni. Queste malattie vengono portate in Italia da orde di finti profughi. La replica di Matteo Salvini non si è fatta attendere e, infatti, dice, Balotelli non mi piaceva in campo e piace ancora meno fuori.